A metà della piegata, un allineamento già più che buono che va a completarsi. Undici buoni due anni, miglio seconda del convegno. Prende velocità la macchina. Problemi per il sei, Shibum Rum. C'è lotta alla chiusura, all'errore proprio di Shiledi. E Savoir si impone a Sky Ok. E' impiegata quindi il quattro a comandare Di Galoppo, quello di Velotti che è finito a tabellone. Tredici e nove per l'allievo di Cincinnato. Progredisci Saira, Di Galoppo l'undici Smart che era partita bene. E si va al completamento della prima curva, lunga fila indiana, i quattrocento, in trenta e quattro. Ora amministra il vantaggio, in quarta posizione Siviglia Font, a precedere via via tutti quanti gli altri. Recupera l'allievo di Gallucci, ma viene anticipato da Sparviere. Seicento in quarantasei e mezzo, e cavalli che affrontano la penultima curva. Allunga bene Savoir e mantiene il comando. Si va a metà della curva, il completamento del mezzo miglio iniziale, passato in 1-3, un battito. E Sciledi va a coprire Sky Ok, prosegue la Loviu, cerca l'aggancio. Viene via anche sovrano degli dèi, Corraf Palomba. Chilometro chiuso in 17,8, una frazione in 14,7, che consente a Savoir di mantenere il comando. E la Zizanbrook Tour del Cincin Mato va ai 400 finali, 14,9, 1,32, 8, tre quarti di miglio. Ha avuto problemi l'allievo di Gallucci che allarga. Si inserisce sovrano e taglia fuori quella di Gallucci. Retta d'arrivo con Savoir che cerca lo stacco, poi Sky Ok. Savoir in vantaggio, mantiene il comando, viene via il 5 di Sirio di No. Savoir leader, mantiene il comando, di dentro va Sky, palo vicino, Cincin 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 Mato. Secondo è il 3 di Sky, terzi il 9 di Sparviero. 2-4 sul mio cronometro, un bel cost to cost, possiamo dire toast to toast di questo Cincin Cincin Mato. Con questa Savoir AS, la griff degli AS, signor Dionisio Santaniello, i colori, ma il training e la guida di Cincin. Bene bene, l'allievo del leone Sky Ok che proprio sul palo riesce ad arginare un discreto Sirio di No con papà Salvatore. Leggiamo la quota, 5,13, era chiacchierata, era giocata. Ha mantenuto fede, linea alla regia.